Ciao ragazzi, grazie di essere qui con noi oggi. Allora, oggi sarà un video super 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 richiesto in cui farò un semplice, diciamo più che massaggio alla schiena, farò un po' di scratching, un po' di tracing, ho anche dei pennelli per fare un po' di brushing e anche una gecgino cinese per fare una specie di massaggio. Adesso raccogliamo i capelli, che lei ne ha tanti e lunghi, e poi iniziamo con la schiena. So che in molti sarete invidiosi della mia amica, però lei si lamenta sempre. Faccio una trezza. Grazie. 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 così ho un po' il collo libero e comincio con un po' di scratching con le mie unghie sulla porta superiore della schiena che secondo me è sempre quello un po' più sensibile ai grattini hai presi e perchè si stesse chiedendo perchè sto parlando a bassa voce? la risposta è che questo è un video A S M R quindi questo è un video con lo scopo principale di provocarti i famosi prevedini quelli che ad esempio si possono provare o si provavano quando da piccoli ci facevamo ingrattire la schiena così ok adesso prima di provare a scrivere un po' di parole facciamo un po' di si facciamo un po' di e qui andando nel mare questo è un po' di questo è un po' di facciamo un po' di e qui facciamo un po' di e qui facciamo un po' di e qui lo sole con tanti tanti raggi e una nuvola e qui come oggi sentiamo un po' monovoloso soleggiato monovoloso ok facciamo qualche riga e qui ci 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 N N A X N E Baggin A X Un po' di tapping leggero Un po' di tapping leggero La cosa che amai vedi di più sono i cantini qui sul collo Qui che poi scendono Sono stupendi E poi scendono sulle spalle Sulla schiena Ok Allora proviamo una parola Vediamo Vediamo Suggerisce una parola Sveva S V E V E V La Sveva Perchè non lo sapesse E' un cane Ed è in particolare E' una Maganellina Che è di ranza S E D E E L E' un bel sentuto Ok Allora con il pianca mai ora Un libro che si chiama Le Stanze di Lavata Quindi andiamo un po' a scriverlo Quindi andiamo un po' a scriverlo L E S D A E Z A D L A V A A N D A E poi abbiamo E poi abbiamo Vi ho scritto una specchia di claralento Quindi scriviamo claralento Cla 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 L A L Scriviamola anche in maiuscolo L A L A L L A D Ok Ora andiamo a fare un po' di braci Anzi Andiamo prima un po' con il massaggiatore Qui A Che Anzi Sì C C Grazie a tutti. 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 Usiamo anche l'altro. Grazie a tutti. E' un'altra. Grazie a tutti. 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 Un'altra. 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 e il sole ok allora io spero vi siete rilassati con questo video adesso lascio i capelli e vi auguro una buonanotte l'uovo lo rompo e si spalle ok sciogliamo l'attrezzo e intanto vi auguro una buonanotte una buona giornata spero che questo video vi abbia rilassato vi abbia fatto quasi chiedere gli occhi quasi o del tutto buonanotte 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 sogni d'oro cali bella calispera buonanotte scelta yeah ok ok no